Contrapponiamo l'idea di chi vuole spaccare l'Italia a un filo che invece ricuce i territori tra di loro e il centro, i palazzi romani, con le forze vive che ci sono nei nostri circoli e nelle nostre città. Filo diretto nasce così e naturalmente nasce anche per raccontare cos'è davvero l'autonomia differenziata voluta da Salvini e Meloni e che danni può fare non solo al sud ma tutta l'Italia. Ci sarà una discussione direi lunga alla Camera sui nostri emendamenti e poi anche in aula se la maggioranza forzerà. Noi pretenderemo di discutere uno per uno tutti i nostri emendamenti perché vogliamo mettere la maggioranza di fronte alle proprie responsabilità. Vogliamo far sì che chi usa il nome Italia nel nome del proprio partito si vergogni di farlo perché questo provvedimento spacca l'Italia in 20 pezzi e fa sì che i diritti dei cittadini non siano più uguali a seconda della regione nella quale nascono e ripeto non è solo un problema del sud, è un problema del paese. Pensiamo solo all'istruzione. L'istruzione diventa una questione regionale, quindi nascere in una regione piuttosto che in un'altra significherà avere un diritto allo studio diverso e questa è l'Italia che vogliamo? Io credo di no. Abbiamo già visto cosa succede quando la sanità diventa materia esclusivamente regionale, spingere ancora di più l'acceleratore su questo senza peraltro fare in modo che i diritti fondamentali siano davvero garantiti perché i LEP così come sono indicati sono uno specchietto per le allodole. Vuol dire cancellare il diritto universale alla salute che è previsto dalla nostra Costituzione per il quale personalità come Tina Anselmi si sono spese una vita intera. Cancellare la storia del paese, cancellare i diritti fondamentali, noi non glielo consentiremo e credo che i cittadini e le cittadine saranno al nostro fianco.